La conversazione che stiamo per realizzare qui nel Posto delle Parole è una conversazione di argomento storico, non potrebbe essere che altrimenti insieme con il nostro ospite che salutiamo Andrea Frediani, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole, siamo stati con lei con il suo penultimo libro a questo punto, quello dedicato alle epidemie e guerre che hanno cambiato il corso della storia e adesso abbiamo un altro libro che in qualche modo ha cambiato con la storia che lei racconta anche il corso della storia, comunque sia, pubblicato da Cairo, L'eroe di Milano, questa è l'ultima storia che Andrea Frediani ci porta all'attenzione per la lettura da un punto di vista storico. Il suo appuntamento ormai continua ogni volta sempre nello scavo della storia, che cosa scopre ogni volta parlandosi e andando a raccontare, come in questo caso dell'eroe di Milano, un aspetto storico inusitato che andremo a scoprire fra poco, ma che cosa scopre nella prospettiva del tempo Andrea Frediani che è utile anche oggi conoscere quelle gesta, quelle guerre di un tempo? Scavare nella storia per approfondire le vicende e quindi creare nei romanzi, come anche nei esaggi ovviamente, dei caratteri credibili e degli eventi coerenti, cosa che spesso le fonti non ci restituiscono, lo trovo sempre estremamente eccitante. Anche un argomento dei personaggi che all'inizio non mi sembrano particolarmente interessanti, una volta approfonditi e restituiti alle loro dinamiche del tempo, francamente mi esaltano. Quindi è un lavoro che credo non mi stuferà mai, perché la storia è una fucina di personaggi, di aneddote, di vicende, di atti eroici, di imprese, di meccanismi e di dinamiche che meritano sempre la nostra attenzione. Anche perché la famosa massima storia magistra vita è più che mai attuale. Quello che noi vediamo studiando il passato può sempre essere applicato al presente. Segnatamente in questo romanzo che analizza le basi di quella che sarebbe diventata poi la nostra storia, almeno in una parte d'Italia, comprendiamo tantissimo dello spirito che anima oggi alcuni settori degli italiani. Io ricordo sempre a tutti che l'Italia è un insieme di realtà profondamente diverse a livello storico e questo si riflette sulla mentalità dell'italiano medio, perché il nord è una storia di autonomie comunali, quindi di parcellizzazione e di microcosmi. Il centro è una storia di evoluzione del potere papale, mentre il sud è una storia di dominazioni straniere. Ovviamente queste tre tipologie di evoluzione politica hanno condizionato molto la mentalità degli abitanti di ciascun settore e in questo romanzo, per quanto incentrato sulle vicende dell'Italia settentrionale, racchiude comunque molti episodi, molte vicende, molti personaggi che appartengono anche agli altri due settori dell'Italia, tant'è vero che rientrano strettamente nella vicenda. Alcune parti del romanzo sono ambientate a Roma e ci sono comunque molti riferimenti ai regni meridionali dei normanni che poi sarebbero stati rilevati dai tedeschi e da Federico Barbarossa. Lei nella postfazione Andrea Frediani ci tiene a precisare due cose. La parte di Andrea Frediani storico che dice ha il dovere di avvertire il lettore che Alberto Leggiussano e la compagnia della morte probabilmente non sono mai esistiti e poi poco più in là l'Andrea Frediani romanziere però è autorizzato a ipotizzare una storia in cui il protagonista potrebbe essere caduto nell'oblio. Ecco, due posizioni che si intersecano e la posizione però del romanziere che attraverso la finzione può far apparire vero ciò che vero non è. Io sono sia saggista che romanziere, la mia produzione è vasta in entrambi i campi e spesso mi sono trovato di fronte a questo dubbio. Quanto dello storico accademico deve rientrare nel romanzo e viceversa ovviamente, quanto del romanziere deve entrare nel saggio per renderlo un po' più appetibile alle persone che non sono strettamente degli addetti ai lavori. Spesso ovviamente ho dovuto frenare nei romanzi la mia attitudine di storico perché altrimenti avrei fatto cronaca. Nello stesso tempo ho dovuto utilizzare quella che Jacques Legoff chiamava immaginazione scientifica per riempire i vuoti, per dare una conformazione più realistica a quelle che spesso ci vengono tramandate come vicende eroiche, come grandi imprese, ma in realtà sono spesso il frutto di leggende che si sono costruite nel tempo attraverso tradizioni orali o mancanza di fonti. Effettivamente questo romanzo si basa come protagonista su un personaggio che probabilmente è stato creato molto dopo gli eventi perché gli storici fanno affidamento soprattutto sulle fonti coeve per ogni evento. Quello a cui noi diamo più affidamento ovviamente è la fonte del testimone oculare o di quello che è vissuto nell'epoca di un determinato evento o episodio, quello che è avvenuto un secolo, il testimone che scrive o il cronista che scrive un secolo dopo gli eventi si sarà dovuto basare su qualcos'altro che ha letto solo lui o su racconti e tradizioni, quindi non è altrettanto fededegno. Ecco, di queste vicende, in queste vicende di cui parlo, che hanno portato per l'appunto alla liberazione dei comuni del nord dall'egida imperiale, di Alberto Dagiussano non si parla, nonostante sia diventato l'eroe di una lunga tradizione e sia stato anche strumentalizzato da un punto di vista politico, però fa comodo come protagonista di un romanzo e allora io da storico ho cercato di dargli una base storica, cioè di spiegare perché è caduto nell'oblio, quindi magari è esistito veramente ma qualcuno ha avuto interesse a cancellare il nome della storia fino a quando un cronista un secolo dopo lo ha recuperato da qualche tradizione orale. E come mai questa Dannazio Memoria riferita proprio a questo personaggio secondo lei, Andrea Frediani? Ma no, in realtà non essendo mai esistito non possiamo parlare di Dannazio Memoria, io gli ho attribuito una sorta di Dannazio Memoria come romanziere per giustificare il fatto che si dice che non sia mai esistito, però è un espediente letterario un po' come quello del Manzoni col manoscritto dei professi sport, è puramente un espediente letterario per dare più sostanza a una tradizione che ormai abbiamo appurato essere in realtà leggendaria. Tradizione leggendaria che nella prospettiva del tempo, lo accennava già poco fa lei, Andrea Alfrediani che è stato utilizzato adesso un po' meno, è stato utilizzato proprio come simbolo, come punto di riferimento per una parte politica, proprio perché l'utilizzo di un simbolo, l'utilizzo di un mito si può, non dico inventare di sana pianta, però uno può prendere un mito self service, nel senso che abbiamo proprio notato attraverso questa esperienza di Alberto Giussano che la storia, se non la racconti giusta, la puoi manipolare e questo non è corretto. Georges Duby, un grande storico, scrisse un libro, la battaglia di Boven, che fu la prima guerra europea di ampio respiro, in cui non narrava lo svolgimento della battaglia, ma le interpretazioni che della battaglia sono state date nel corso dei secoli. Ogni secolo dava la sua interpretazione in funzione delle sue esigenze politiche e dei connotati sociali che si erano andati a fermare nell'epoca. Quindi in realtà per prima cosa tengo a specificare che io ho voluto scrivere innanzitutto un romanzo d'avventura in un contesto storico comunque dettagliato e particolareggiato per via della mia formazione accademica. Poi le interpretazioni le lascio ai lettori tra i quali ci saranno quelli che hanno interesse a interpretarlo a favore delle proprie tesi o quelli che invece vogliono semplicemente passare delle ore a imparare, soprattutto ad approfondire delle vicende storiche molto importanti per la storia d'Italia e magari semplicemente a divertirsi, a sbagarsi con delle avventure che spero avvincenti. Avventure avvincenti che torno a dire ci portano a essere in contatto con la storia e ad apprendere anche attraverso la forma romanzo ciò che è avvenuto nell'anno verso il 1100 a Milano con i comuni che si devono in ogni modo difendere. Qui abbiamo l'imperatore germanico Federico di Oinstaufen, mi aiuti lei nella pronuncia, spero che sia detta bene. E basta dire Federico Barbarossa. Ecco infatti stavo per dirlo, il Barbarossa comunemente cosiddetto, ecco e qui la storia si sviluppa. Però non è solamente il Barbarossa, qui ci sono due protagonisti che si fanno avanti in una maniera molto particolare, in una maniera e nell'altra ognuno in modo molto singolare e questi due personaggi, due amici riescono a trovare un escamotaggio sicuramente importante per entrare in quello che diceva poco fa lei Andrea Frediani, nel territorio dell'avventura e proprio grazie a loro, pagina dopo pagina l'avventura si fa esaltante. L'idea di questi due amici che poi diventano rivali mi è stata data dal fatto che Alberto da Giussano non è mai stato citato nelle fonti coere, però queste stesse fonti fanno riferimento a un paio di Alberto, ad almeno due Alberto con cognomi diversi, Alberto da Cairate, Alberto Longo, che facevano parte del direttivo della Lega Lombarda, che quindi sono citati a passare nei documenti, non più di tanto perché in quel periodo le fonti sono molto sintetiche, smuzzicate e quindi non approfondiscono nulla, soprattutto da un punto di vista dei personaggi minori. Quindi mi sono detto, ma magari Alberto da Giussano è il frutto di una tradizione di più Alberti e allora perché non immaginiamo che ci siano due Alberto che crescono all'ombra del potere imperiale in Lombardia, che sono amici, ma col tempo di fronte proprio alle decisioni che devono prendere per affrontare lo strapotere del Barbarossa, i loro interessi divergono e piano piano diventano rivali. Questo già può essere una scintilla che attira l'attenzione, perché le sfide in campo storico sono il sale dell'interesse dei lettori e di chiunque si avvicini alla storia, le sfide con se stessi per realizzare le proprie ambizioni da parte di grandi condottieri e uomini politici e le sfide tra condottieri, tra uomini per raggiungere determinati obiettivi. Quindi il libro si sviluppa nell'arco di un prentennio, peraltro, in cui il rapporto tra i due si modifica profondamente. Peraltro loro diventano rivali politici, ma sono anche rivali in amore, perché comunque si disputano la stessa donna. Quindi ci sono molti motivi che li portano a creare un antagonismo. Peraltro, visto che ho trattato un materiale in parte leggendario, li ho messi in competizione anche sotto un aspetto, come poter definire, sotto un aspetto da Robin Hood. Tutti e due diventano campioni della resistenza a oltranza contro l'occupazione straniera facendosi capi guerriglia, entrando in competizione. Come c'era la Compagnia della Morte, c'era anche un'altra compagnia che, in competizione con la Compagnia della Morte, per l'appunto cercava di rendere la vita impossibile agli stranieri, agli occupanti, agli invasori. Adesso, visto che abbiamo citato diverse volte la Compagnia della Morte, la Compagnia della Morte è anche qui una presenza importante per quanto riguarda Alberto Raggiussano, che ovviamente la Compagnia della Morte era a fianco di Alberto Raggiussano. E in che modo questa compagnia riusciva a tutelare Alberto Raggiussano? Ma intanto chiariamo che così come probabilmente non è mai esistito Alberto Raggiussano, probabilmente non è mai esistita neanche la Compagnia della Morte, che era una sorta di sua guardia del corpo che le fonti posteriori dicono decisiva nella battaglia. Però sono anche quelle stesse fonti che dicono che la battaglia fu vinta dai Lombardi grazie all'intervento di due santi che uscirono fuori da una basilica milanese, con Parvero in cielo sopra gli elmi e gli stendardi dei Lombardi, spaventando i tedeschi, inducendoli alla fuga. Quindi ovviamente stiamo parlando di fonti che vanno tenute in considerazione fino a un certo punto. Però anche in questo caso la Compagnia della Morte mi ha fatto gioco perché mi ha permesso di creare una compagnia di adepti di Alberto Raggiussano, il mio protagonista, che potrebbe essere un po' associata a quella che aveva Robin Hood nel celebre romanzo dove c'era Frattac, dove c'erano tutti gli altri personaggi che insomma sono entrati nell'immaginario collettivo. Quindi mi ha dato l'opportunità di creare una serie di coprotagonisti che poi con il loro sacrificio nella battaglia finale, perché ovviamente il culmine del romanzo diventa la nota battaglia di Legnano, anche se nel mio caso poi prosegue con la resa dei conti tra i due, perché dopo la battaglia di Legnano nel romanzo ci sarà la resa dei conti tra i due rivali. Ecco, la Compagnia della Morte comunque col suo sacrificio nella battaglia, nell'epica battaglia, avrà un ruolo importante nello svolgimento dello scontro. L'eroe di Milano, pubblicato dall'editore Cairo e il nuovo libro di Andrea Frediani. Prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni Andrea Frediani? Come lettura o come scrittura? E allora cominciamo dalla lettura, dal piacere della pura lettura e poi andiamo allo studio. Guardi, come lettura ho appena finito un libro di Arari, uno dei tre libri di Arari perché me li rileggo in continuazione, quelli che hanno ottenuto grande successo e breve storia del futuro. Come scrittura ho appena pubblicato un nuovo romanzo ambientato nell'antica Roma che è uscito la settimana scorsa e che si chiama I tre cavalieri di Roma e che è il primo di una saga molto avventurosa. Sto terminando in questi giorni la revisione di un romanzo molto importante, molto ponderoso che uscirà a gennaio e che è un'altra grande saga medievale. Questa è una saga dinastica ed è veramente un grande affresco dell'Italia medievale perché va dalle lotte tra i guelfi chibellini ai vespri siciliani, ai conclavi più lunghi della storia, alle lotte per il potere a Roma. È stato piuttosto impegnativo. E allora ci diamo appuntamento una volta letto ovviamente il nuovo libro di Andrea Frediani per raccontarlo qui nel posto delle parole. Intanto grazie, grazie davvero e buon pomeriggio. Grazie a lei. Buon pomeriggio.